ciao a tutti anime bentornati a tutti quanti qui su quinta dimensione letture e in particolar modo a chi viene proprio a sentire questi tipi di video con contenuti di altissima crescita personale questa è una serie questo video fa parte di una serie di video appunto che ho chiamato i sette raggi e i cinque raggi occulti che i cinque raggi occulti sono una cosa più nuova diciamo insegnamenti dati più nell'ultimo tempo nell'ultimo periodo mentre i sette raggi sono già tantissimi anni che i maestri ascesi il ponte delle libertà hanno proprio divulgato è anche ne ha parlato anche diciamo la blavatsky no che fu proprio la creatrice di questa teosofia insomma di questa pratica poi ognuno chi vuole insomma fa riferimento più a una un'altra abbiamo anche delle foto della madame blavatsky con i maestri ascesi insomma con san germain con il maestro asceso anche il moria per esempio abbiamo diverse testimonianze quindi comunque noi prendiamo e facciamo sempre riferimento alla metafisica e il ponte la libertà che sono i dati più ufficiali in assoluto ovviamente quello che vi dirò in questo video viene dai libri di editrice metafisica italia quindi editrice italica e poi abbiamo anche i nostri altri libri che vi farò vedere quindi chi vuole si prende il video al giorno che vuole piano piano ok poi associato a questo video c'è una playlist che vi invito ad andare a guardare sulle note tonali dedicate al raggio di quel video va bene quindi oggi per esempio lunedì raggio giallo dorato ci sarà la playlist del lunedì relativa a questo raggio che cosa sono le note tonali sono proprio le vibrazioni di questo giorno che più sono appunto in sintonia in risonanza in vibrazione con il raggio di quel giorno corrispondente a una certa nota che appunto sempre di quel giorno e di quel raggio che vi dirò allora come vedete qui ho diverse pietre di cui la genesa gialla qui funziona così con i raggi dobbiamo essere in sintonia il più possibile come si fa ad essere in sintonia il più possibile praticamente tutto quello che è giallo in quel giorno nell'abbigliamento nelle pietre quello che corrisponde la nota di quel giorno l'aroma di quel giorno tutto quanto può essere in sintonia vi collegherà di più a quel raggio specifico ricordo a tutti che i raggi ci sono sempre tutti i giorni sono attivi tutti i raggi ma c'è una funzione particolare in quel giorno che è più attiva in quel raggio specifico non è che non funziona gli altri giorni si possono comunque pensare meditare comunque sui sette raggi sempre su tutti e sette ma sapete il giorno di riferimento qual è dove quel raggio è più particolarmente attivo allora qui ho tipo un quarto citrino ho il light body che è una pietra andara di quinta dimensione comunque la calcita è gialla vi volevo dire anche questi ciondolini dove riportano proprio tutti i sette colori non c'è il rosa perché il quarto chakra comunque spesso lo abbinano anche alla pietra verde va bene anche verde comunque però diciamo che richiama un po' lo spettro di tutti i colori di quelli che sono i colori abbiamo i nostri cristalli comunque le muriani insomma vedete voi quello che vi sentite più in sintonia ci sono delle basi ma quello che fa diciamo lo studente il discepolo dei maestri ascesi comunque si è sempre è sempre un bene quello con cui vi sentite più in risonanza se vi va bene un quarto citrino perché state benissimo con il quarto citrino bellissimo fate il quarto citrino non è che dovete avere 50 pietre non c'è questo tipo di problema poi ci possiamo connettere in tanti modi allora vi faccio vedere libido a cui prenderò oggi questo video sempre dell'editrice italica le meditazioni quotidiane che ha qualche anno in più mentre questo i sette raggi e cinque raggi occulti che è un pochino più nuovo chi piace questo argomento fatevi anche una bella lettura di questi della metafisica di Connie Mendez proprio quattro in uno quattro in uno sono proprio tutti ben diciamo riassunti dentro questi volumi e si parla proprio di tutto questo diciamo di questi argomenti però è appunto qui dice metafisica alla portata di tutti cioè questo qui è proprio un sunto per farvi capire un po non solo dei raggi è proprio che cos'è la metafisica come lavora da cosa parte eccetera eccetera è sempre un'informazione molto importante leggere sempre molto importante poi cito ovviamente come non citare telos dove appunto delle fiamme ne parla il libro proprio telos 4 che vi ho fatto vedere tutti i libri è dall'1 al 4 su un altro video quindi che altro dirvi allora vi invito come già vi avevo detto a sentire comunque anche gli altri video perché in ognuno poi mi viene una spiegazione diversa o una cosa in più o in meno dall'altro quindi fatevi voi insomma la vostra la vostra playlist la vostra storia vedete voi quello che volete i raggi appunto sono proprio i sette aspetti di dio le sette vertù divine ok noi con questi raggi possiamo sviluppare proprio la presenza divina nel nostro essere terreno e si generano proprio dal sole questi raggi intorno a questo sole orbitano proprio queste sfere ok dove in queste sfere c'è l'energia dei raggi ecco perché ogni giorno c'è una sfera particolare dove questo raggio diciamo si riflette si converte in fiamma bene quindi sono proprio dei doni dei doni e corrispondono poi ogni raggio poi ogni volta vi spiego qual è a delle virtù divine per esempio oggi parliamo del giorno lunedì del secondo raggio che è giallo dorato ed è proprio quindi entriamo proprio nel vivo di questo video il raggio della saggezza qualità irradiate di questo giallo di questo raggio giallo sono proprio l'intelligenza la saggezza illuminazione percezione costanza intuizione e discernimento adesso poi vi dico tutto quanto chi sono appunto diciamo gli esseri in ogni raggio ci sono sempre un sacco di esseri ci sono proprio c'è il direttore c'ho han del raggio ci sono gli arcangeri e tanti altri tipi di esseri tra cui anche gli elohim per esempio che sono proprio degli esseri con un'evoluzione proprio grandissima perché nuovo questo termine elohim sono spesso stati chiamati anche costruttori della forma per esempio come fossero degli ingegneri degli architetti diciamo così però dei mondi e sono proprio la massima evoluzione del regno elementale e sono in grado di modellare la materia per costruire le forme i pianeti le stelle e i sistemi solari allora torniamo a noi oggi adesso leggiamo insieme i decreti ricordo che per ragioni di spazio non entrerà tutto nella descrizione del video ne metterò solo una parte per chi vuole sentirli tutti e recitarli tutti sia da solo che magari sopra la mia voce metterò anche nel mio sito web www.quintadimensioneletture.it tutti quanti i decreti che leggerò in questo video quindi chi vuole proprio la panoramica completa va sul sito web ovviamente i link sono nella descrizione del video allora diciamo il colore appunto di oggi il lunedì è giallo con radiazione dorata le virtù sono appunto l'amore, la saggezza, intelligenza, intuizione pianificazione contemplazione calma, osservazione discernimento pazienza filosofia illuminazione costanza conoscenza insegnamento connessione con l'essere cristico il chakra corrispondente è il chakra della corona non sempre i chakra vanno associati ai colori alcuni sì alcuni no per il giallo per esempio uno si poteva aspettare fosse il terzo il terzo chakra che è appunto giallo no quello del plesso solare invece no così dicono i maestri ascesi per questo raggio giallo il chakra corrispondente è quello della corona quindi sopra la vostra testa è il settimo il giorno della settimana in cui è più attivo questo raggio giallo è proprio il lunedì adesso il direttore detto anche Chohan di questo raggio è il maestro asceso Divai Kul detto anche il tibetano precedentemente sono stati proprio anche il maestro Confucio la maestra Sochi e anche il maestro Kutumi gli Elohim appunto questi grandi ingegneri direttori delle forme del mondo sono Cassiopea e Minerva gli arcangeli di questo giorno sono Joffiel e l'arcangelina Costanza gli aromi che particolarmente risuonano oggi lunedì in questo raggio giallo sono il limone la maggiorana mirra e la salvia sclarea sclarea non so come si pronuncia le pietre sono il toppazio giallo quarzo citrino e zaffiro giallo la nota musicale di oggi di questo giorno è la nota La adesso vi dico un po' chi sono proprio tutti questi esseri molto attivi particolarmente oggi e in questo giorno quindi c'è appunto abbiamo detto l'istruttore mondiale detto anche Bodhisattva Cristo Planetario il maestro Kutumi che fu appunto uno dei precedenti direttori Chohan di questo raggio quindi adesso invece abbiamo il maestro Divacul come ci dice il ponte alla libertà questo Divacul è stato proprio un discepolo di Kutumi di questo ex direttore di questo raggio e continua a collaborare proprio in tale carica comunque Kutumi è sempre comunque presente allora il maestro Kutumi appunto rappresenta il secondo raggio fu anche il grande insegnante Pitagora si dice in una delle sue reincarnazioni che ha avuto il nostro maestro Kutumi quindi abbiamo Kutumi poi abbiamo detto Divacul che è proprio il maestro Chohan del secondo raggio che è conosciuto come il tibetano è stato un discepolo del maestro Kutumi che è asceso Divacul ha avuto la sua ascensione nel 1875 visse anche nell'antica Lemuria è un maestro molto relazionato al lavoro con la gerarchia spirituale e con i raggi per il pianeta Terra poi abbiamo il maestro Lanto che giunse da Venere con Sara Kumara per salvare la Terra si incarnò anche maestro Lanto molte volte nell'antica Lemuria e Atlantide come il sacerdote della fiamma quindi questo è un maestro anch'esso molto importante e poi dopo abbiamo tutte le note tonali di tutti i maestri che ve le metto nella playlist andiamo avanti col maestro Confucio che appunto è un maestro di origine cinese e fu fondatore del confucianesimo quindi abbiamo anche il maestro Confucio poi abbiamo la maestra So Shi che è appunto una dei maestri ascesi del secondo raggio che è il completamento divino di Confucio anche lei di origine cinese e fu anche lei precedente direttore proprio di questo raggio poi gli Elohim sono Cassiopea e Minerva e le cui loro attività sono la percezione la saggezza e l'illuminazione questi due Elohim appunto Cassiopea e Minerva sostengono il raggiungimento dell'illuminazione per tutta l'umanità e poi dopo facciamo i decreti di tutti quanti gli arcangeli Joffiel e Costanza sono appunto gli arcangeli del secondo raggio i grandi direttori della fratellanza della tunica dorata dell'illuminazione e lavorano insieme a tutti i maestri del secondo raggio affinché ogni essere umano possa raggiungere l'illuminazione e così liberarsi dal velo di maglia che contiene intrappolata l'umanità nell'illusione poi abbiamo il secondo aspetto della Trimurtio della Trinità Induista che è Vishnu Lord Vishnu ok? poi abbiamo anche Lakshmi che è una dea che è la madre divina della ricchezza che poi tra l'altro è la consorte divina proprio di Vishnu lei è Lakshmi quindi Lakshmi è proprio una dea particolare che ha a che fare proprio con la ricchezza ma non solo materiale anche di ogni cosa buona pura è perfetta il suo colore oro simboleggia la prosperità della dea poi abbiamo Krishna detto il Christus molto noto e venerato in India ok? Krishna ha come complemento divino l'amata lei di Sofia quindi Krishna e Sofia sono i signori solari i logos solari del sole che porta il loro nome la loro stella forma parte del sistema di alfa e omega poi abbiamo gli dei Meru che sono i gerarchi del tempio dell'illuminazione situato sul lago Titicata Titicata fra Bolivia e Peru che è proprio un grande fulcro di energia spirituale della terra in questa nuova era dell'acquario poi abbiamo Lord Himalaya che è conosciuto in oriente come Chasuska che è proprio il manu della quarta razza radice quindi Lord Himalaya poi abbiamo Sofia dea del terzo sole appartenente ad alfa e Omega che è il completamento divino dell'amato Krishna che sarebbe il dio del sole la sua qualità appunto di questa dea è la saggezza poi abbiamo Kenick Hanan che è il gerarchi del tempio solare di Uxmal nello Yucatan in Messico poi abbiamo Luzar che è un guardiano della fiamma solare che svolge il suo servizio sotto la direzione dell'amato Kenick Hanan che è un altro quell'altro essere di prima che vi ho detto sempre del secondo raggio poi abbiamo Lady Leto che è una maestra ascesa e quando le viene richiesto a Lady Leto si occupa di riportare la memoria esterna alla memoria esterna le esperienze vissute nei piani interni ineritivi dei maestri ascesi quando il nostro corpo fisico dorme quindi è molto importante questa maestra ascesa perché allena gli studenti del sentiero spirituale a lasciare il proprio corpo coscientemente e a rientrarvi a piacimento per esempio ci sono degli esercizi che possiamo fare ad esempio la sera quando noi andiamo a dormire possiamo chiedere di essere portati dai maestri ascesi proprio nei ritiri spirituali per assistere alle loro lezioni per farci spiegare da loro sempre mentre dormiamo insomma e poi la mattina poter ricordare questi insegnamenti per esempio questa è un'altra cosa poi abbiamo Dea Peruzia che prima della sua ascensione era una discepola e sacerdotessa del Tempio dell'Illuminazione del lago Titicaca sotto la guida degli dei Meru poi abbiamo Regina della Luce e la Dea della Luce che sono due esseri diversi però entrambe possiedono una grande concentrazione di luce Lady Nadia che è un'individualizzazione dell'aspetto femminile della divinità è una discepola dell'amato Lord Gautama Lord Theophrastus che è un maestro che aiuta a sviluppare e aumentare la comprensione e l'applicazione della legge spirituale e infine Roberto Assagioli che fu un grande iniziato italiano nato a Venezia nel 1888 e si è disincarnato a Capolona nel 1974 e fu proprio uno psichiatra e teosofo fondatore della psicosintesi è un discepolo del secondo raggio in contatto col maestro tibetano che è appunto di Vaikul e Kutumi allora adesso partiamo con i decreti che prendiamo proprio dalle meditazioni quotidiane da questo libricino piccolino e poi proseguiamo con gli approfondimenti che sono più nuovi più aggiornati dell'altro libro quindi iniziamo io scrivo tutto quello che posso nella descrizione se no dovete andare nel sito web chi lo vuol fare con me a seconda della velocità della vostra voce non posso troppo modificare il mio andamento la mia velocità e quindi chi non riesce se lo fa da solo non è che non c'è da farlo per forza insieme io ve li espongo allora secondo raggio dorato appunto il lunedì della saggezza illuminazione amore e pace amato essere cristico io sono in me ti amo e ti adoro invoco la fiamma dorata dell'illuminazione e dell'amore cristico cosmico affinché mi avvolga in questo nuovo giorno io sono l'illuminazione e la saggezza che mi dirige in tutte le mie azioni ascolto comprendo e benedico tutto ciò che contatterò oggi in questo stesso momento realizzo che viva dentro di me c'è la fiamma guaritrice che elimina ogni mia imperfezione ora realizzo che dentro il mio corpo fisico ho l'infinito potere che provvede a tutte le mie richieste e necessità ora comprendo che viva dentro il mio corpo fisico c'è l'illuminazione della mia coscienza esteriore ora realizzo che ho viva nel mio corpo fisico l'intelligenza che c'è in tutte le forme che mi daranno la perfezione che esiste nella loro essenza primaria ora realizzo che esiste un solo potere Dio dentro il mio cuore che agisce per me in proporzione alla fede che ho in lui per tutto questo mio santo essere cristico io sono in me ti invoco vieni vieni e permetti al tuo piano divino di compiersi in me e attraverso di me amato maestro Kutumi ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo grande servizio a me e a tutta l'umanità permetti che la tua saggezza la tua pace e il tuo cuore comprensivo mi avvolgano affinché io possa comprendere sempre meglio i miei fratelli umani e offrir loro l'aiuto che è più a loro necessario amata ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo gran servizio reso a me e a tutta l'umanità che la gran fiamma dell'illuminazione e la sapienza dal tuo ritiro del loto dorato si espanda attraverso il loto dei nostri esseri per benedire ed ascendere tutta l'umanità amato maestro Lanto ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo servizio al nostro pianeta Terra nel corso di tanti secoli aiutaci a sentire questa gran riverenza per la vita che possiedi e l'amore che aiuta a liberarla amato Confucio ti ringraziamo per le tue parole d'amore donaci il tuo potere del silenzio per aiutarci a portare in pace il piano divino per l'età dorata amato Jofiel ti amo ti benedico e ti ringrazio per i servizi che hai reso all'umanità caricami con i tuoi sentimenti concernenti il potere di Dio presenti nel mio cuore per dominare tutte le circostanze che mi troverò ad affrontare con il potere di amore e di luce esteriorizzati insegnami a realizzare le idee che mi sono suggerite da Dio amato Cassiopea ti amo ti adoro e ti ringrazio per tutto ciò che significhi per la nostra terra e per tutta l'umanità aiutami a persistere in questa scienza della precipitazione affinché ogni giorno io possa manifestare un'idea ricevuta dal Padre per esteriorizzarla coscientemente grazie voglio far presente che la precipitazione in questi termini è intesa dai maestri ascesi come la manifestazione quindi aiutami a precipitare vuol dire aiutami a manifestare e no precipitare precipitiamo a terra o che cadiamo eccetera adesso partiamo con questi diciamo più aggiornati anche ma vanno benissimo e quegli altri non è che non vanno bene attenzione dobbiamo fateli come diciamo come ve li dico io scusate ma sono concentrata un attimo a leggere quindi poi le parole me le perdo allora andiamo che avevo il segnalibro adesso partiamo con appunto questi altri questi altri decreti della seconda sfera il secondo raggio giallo dorato che appunto è più attivo il lunedì e partiamo amato maestro Kutumi grande maestro di amore e saggezza aiutami a manifestare la mia coscienza cristica per così vivere più in Cristo e meno nella personalità grazie amato maestro amata maestra So Shi signora della saggezza compassionevole distruttrice dell'ignoranza che causa la sofferenza illumina la mia coscienza e la coscienza di tutta l'umanità amati Elohim Cassiopea e Minerva nel nome della presenza io sono donatemi la saggezza per realizzare la cosa giusta nel momento giusto e nel modo giusto grazie padre madre perché così è nel nome della divina presenza di Dio io sono amati Elohim Cassiopea e Minerva donatemi la percezione del mio piano divino e il modo per realizzarlo grazie padre madre nel più sacro nome di Dio io sono amato arcangelo Jofiel avvolgimi nella tunica della saggezza e dell'illuminazione per poter comprendere e applicare i sacri insegnamenti degli amati maestri ascesi grazie padre madre amata arcangelina costanza donami la costanza per raggiungere questo proposito in modo vittorioso grazie padre madre amata arcangelina costanza nel nome di Dio io sono quello che io sono e per il potere dei mille soli manifesta in me adesso la costanza e la perseveranza divina nel cammino della luce affinché possa raggiungere la mia ascensione in questa incarnazione grazie padre madre nel nome della presenza io sono amato lord Vishnu sostieni questo progetto divino fino al suo compimento finale nel successo nel nome della divina presenza io sono amata madre Lakshmi madre della prosperità manifesta adesso nelle mie mani l'opulenza divina di cui ho bisogno per vivere in abbondanza e donare abbondanza di ogni cosa buona pura e perfetta al mondo grazie madre nel più sacro nome di Dio io sono amata signora leto ti chiedo di portarmi quando il mio corpo fisico dorme nei templi di luce dei maestri ascesi e di trattenere la memoria degli insegnamenti li ricevuti grazie padre madre come avete visto non ci sono i decreti per tutti quanti perché non sono stati appunto dati però sono sempre comunque esseri a cui ci possiamo collegare ai quali noi possiamo anche pensare in quel giorno e chiedere proprio una protezione vi ricordo questi contenuti e altre informazioni molto importanti proprio sui raggi le potete trovare in questo libro di collezione metafisica della editrice italica appunto che si chiama i sette raggi e i cinque raggi occulti e per attivarci a questi raggi possiamo appunto innanzitutto indossare pietre di questo tipo avercele vicino braccialetti cose da portare in tasca in borsa appunto usare i tipi di incensi di oli essenziali di aromi di quel giorno vestirci di quella tonalità in quel giorno per esempio lunedì se abbiamo qualcosa di giallo sarebbe preferibile questo è solo per entrare solo tra virgolette e per entrare più in sintonia con appunto quel tipo di raggio va bene poi che altro ascoltare anche le note tonali ve lo ricordo è fondamentale importantissimo non è un passaggio così sì o no le note tonali vanno di pari passo perché sono le note tonali di tutti gli esseri che vi ho elencato prima tutte insieme vi ho fatto la playlist in questo caso si chiama playlist lunedì lunedì secondo raggio giallo dorato quindi andate a vedere magari potete fare anche questi decreti sotto con in sottofondo la musica di quella playlist anche si potrebbe fare anche così va bene quindi vedete voi dobbiamo attivarci comunque proprio da soli possiamo anche visualizzarli magari questo giorno visualizziamoci di più con questo raggio che ci permea chi la conosce chi ha piacere io lo faccio anche l'aura soma potete fare per esempio quel giorno abbiamo anche le quintessenze per esempio dell'aura soma che sono più in sintonia abbiamo l'aura soma gialle le quintessenze gialle le quintessenze proprio del maestro scusate non le quintessenze gialle le quintessenze relative ai maestri ascesi poi abbiamo invece le pomander che sono proprio anche del colore ok sì che vanno scelte più in base al colore che vi viene però nessuno vi vieta di usare che ne so la quintessenza del maestro asceso appunto di vaicul kutumi elmoria san germen e altri ok che sono proprio nelle quintessenze con dentro appunto gli ingredienti io lo faccio l'aura soma quindi comunque si trova un sacco di beneficio ce l'ho anche qua tra le maniche prima ho messo la pomander che poi rimane per delle ore insomma è fantastico come cura olistica sempre ovviamente che dirvi vi ricordo allora le note tonali e la playlist di tutti i raggi man mano che li metterò c'è chi guarderà questo video quando già l'avrò messi tutti comunque vi do il tempo di assimilare raggio per raggio non c'è bisogno di catapultarsi a fare 25 video insieme perché non è neanche una buona energia invece voglio trasmettervi cose concrete di energia pura pulita ogni volta che mi connetto con voi quindi un video a settimana nel giorno appunto dedicato va bene quindi seguitemi comunque vedete anche altri video di vostro interesse in questo canale per la crescita personale ce ne sono diversi appunto i decreti i codici sacri tante cose meditazioni per il registro akashico e tante altre cose che vi possono interessare tutto ovviamente gratuito chi vuol parlare con me i riferimenti sono nella descrizione del video e in sovraimpressione per questo momento e per questo raggio per questo giorno è tutto grazie a mille di avermi seguito e vi aspetto presto in un prossimo interattivo qui con me su quinta dimensione letture grazie a tutti grazie a tutti